Cartelle pazze, definisce Aldo Di Giacomo, quello che è accaduto ad un cittadino molisano che si è visto arrivare una cartella di 35.000 euro riferita al 2021, cartella che per giunta non doveva pagare. Ovviamente il contribuente contesta la cartella, ma qui comincia il suo calvario per consentire tutti gli accettamenti ad Equitalia, chiede la ratizzazione del pagamento che per sua fortuna gli viene accordata, ma per far questo deve comunque pagare la prima rata 500 euro. Viene riconosciuta la sua ragione e verificato l'errore, gli viene consentito la chiusura del debito, ma non finisce qui perché nel momento in cui l'ignario cittadino si rega lo sportello, gli viene detto che deve pagare gli interessi di 448 euro, interessi per il debito che non aveva. Equitalia ammette l'errore ancora, dicendo che in pochi mesi avrebbe azzerato il debito e restituito la rata pagata. A tutt'oggi, dopo tre anni, il cittadino deve ancora 448 euro. Equitalia ammette il terzo errore. Intanto il cittadino chiede la riabilitazione per un reato commesso, ma gli viene segnalato che con la cartella di Equitalia ancora aperta, detta riabilitazione, non può essere concessa. Un calvario di cui Equitalia si scusa debitando questo a problemi tecnici, ma intanto il problema non si risolve di Giacomo, ha fatto proprio la protesta chiedendo la massima sensibilizzazione di Equitalia a tutela dei diritti dei contribuenti.